Sono migliaia le persone che a Yaoundé, capitale del Camerun, hanno partecipato alla manifestazione contro Bokarama. I miliziani nigeriani negli ultimi mesi hanno più volte preso di mira al nord del paese. I manifestanti, insieme ad alcuni ministri, hanno sfilato in sostegno delle forze armate, impegnate nella battaglia contro i terroristi.